Il rapporto tra Aurora Ramazzotti e Marika Pellegrinelli era molto buono durante il matrimonio di quest'ultima con Eros Ramazzotti. Dopo il divorzio e con l'inizio della storia della Pellegrinelli con Charlie Vezza, però, le cose sono cambiate e tra le due donne sono nati i primi dissapori e le prime lite. Dopo quanto accaduto nei mesi scorsi, però, sembra tornato il sereno. Aurora e Marika hanno fatto pace e a dimostrarlo sono le foto postate su Instagram. Aurora Ramazzotti e Marika Pellegrinelli, dalla lite alla pace.aurora Ramazzotti e Marika Pellegrinelli, dopo essere state permisi ai ferrituti, hanno trovato un punto d'incontro e fatto pace. Ricordiamo che la situazione tra le due donne era davvero incandescente. Basta pensare che, invitate allo stesso evento, hanno chiesto di partecipare ad orari differenti in modo da evitare un incontro. Adesso, però, adesso è tutto dietro le spalle. Aurora e Marika sembrano essere sicchiarite al punto che la figlia di Eros Ramazzotti ha affidato proprio alla ex compagna del padre e il suo adorato gamba. E se ha deciso di affidare il tuo animale domestico a qualcuno, significa che si sfida ciecamente della Pellegrinelli. Su Instagram le stories che ti postano la pace appunto a dimostrare che Aurora Ramazzotti e la Pellegrinelli hanno superato i disabuni e hanno fatto pace. Ci sono alcune stories pubblicate da quest'ultima su Instagram. Le foto mostrerebbero Marika sul divano di casa di Aurora, intenta a prendersi cura dell'amato gatto della Ramazzotti, Sara. Un legame che sembra, dunque, essere tornato più forte di prima. Ricordiamo che tra le due donne vigeva un grandissimo affetto prima che ne scessero le incomprensioni che le erano allontanate. Attualmente la Pellegrinelli è ancora legata a Gianni Bezzami, vero stamattocchi si chiara simbolse bene sia stato avvistato. Negli ultimi mesi, in conto e compagnia. Il cantante, infatti, ha sempre smentito di avere una nuova fiamma. In compenso, i rapporti con le ex mogli Marika Pellegrinelli e Michele Insicher si mantengono ottimi.